Il calciomercato della Juventus passerà molto dalle cessioni, che obbligano la società piemontese a fare valutazioni ben precise dopo la sentenza che rischia di tagliare fuori da un piazzamento in Champions League. Esclusione dai primi quattro posti che non permetterà ai bianconeri di monetizzare e godersi la massima competizione UEFA, tanto da dover compiere diversi sacrifici nell'imminente e prossimo mercato. Al centro delle questioni c'è quella legata alla separazione con Weston MC Kenney, obiettivo di mercato numero uno del Leeds in Premier League. Ma non c'è solo il Leeds, lo statunitense vacilla infatti sulla cessione, vuole l'Arsenal e giocarsi una chance per vincere il titolo con i Gunners. Weston MC Kenney continua a piacere all'Arsenal e lui stesso ha voglia di approdare a Londra, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport. Il Leeds si è mosso concretamente mentre, ad oggi, l'Arsenal sembra non aver trovato l'affondo da 30 milioni che porterebbe al centrocampista. Il suo attendere su una risposta netta da dare al Leeds sul suo trasferimento, rischia di compromettere le idee di addio che ha la Juve, che lo spingerebbe volentieri in Inghilterra per fare cassa. Mancano pochi giorni e MC Kenney dovrà dare una risposta al più presto.